Ben trovati amici di Padre Pio TV, la vita come dono quest'oggi si ferma a Bari, siamo nella zona più antica denominata Bari Vecchia, siamo dinanzi alla cattedrale della città dove incontreremo le figlie della Carità. Era il 29 novembre del 1633 quando nasceva la piccola compagnia delle figlie della Carità, il Signore ama la compagnia delle figlie della Carità, poche persone sono vicini ai poveri e loro lo sono. Questa è l'esperienza che conosceremo quest'oggi incontrando anche il parroco dove le figlie della Carità operano la loro missione appunto con l'aiuto ai più bisognosi. Andiamo a conoscerle insieme. Sono Don Franco, sono il parroco della parrocia cattedrale, ovvero sia di tutta la città vecchia. La mia comunità porciale è fatta di 13 mila abitanti ed è una realtà molto fragile a livello sociale. La presenza delle figlie della Carità è fondamentale, fondativa proprio perché il loro carisma all'interno della comunità sviluppa la coscienza e educa al servizio tutta la comunità. È un carisma che sostiene nella Carità la comunità ad essere una comunità con la porta aperta, una comunità che sia madre, perché è la chiesa madre, abbia il cuore aperto ai più deboli e ai più fragili. Dunque la presenza delle consacrate all'interno della comunità sta educando la comunità ad essere una comunità madre con la porta della misericordia sempre aperta a specie agli uomini e alle donne bisognose di attenzione, di tenerezza e di umanità. Per questo il femminile di queste consacrate educa la nostra comunità a non essere un'azienda dei servizi ma essere un'umanità che ama. C'è il pericolo che possa essere una parroccia o un'organizzazione che fa dei servizi sociali, mentre la comunità non è un'azienda dei servizi, un'azienda sanitaria, ma è una comunità che è amata, vive l'amore per l'uomo a misura del cuore di Cristo. Le consacrate sostengono la chiesa in questo passaggio, ma non essere un'organizzazione di servizi ma un'umanità amata, amante, che ha la tenerezza di Cristo per i più debole. Questo il femminile delle consacrate ci aiuta molto. E come ho annunciato oggi vogliamo conoscere le figlie della Carità. Siamo all'interno della loro casa, qui a Bari Vecchia, come ha annunciato prima. Grazie a Sorrita che è la responsabile qui della comunità delle figlie della Carità in Bari. Grazie per l'accoglienza. Grazie di essere venute e di averci anche interpellato, perché per noi è stato un piacere avervi qui con noi. Ecco, Sorrita, come nascono le figlie della Carità? Partiamo dall'inizio, parliamo un po' dei fondatori. Chi sono? No. I fondatori sono San Vincenzo dei Paoli e Santa Luisa dei Mariacca. San Vincenzo dei Paoli era un contadino, un giovane contadino, che all'epoca per far carriera pensò di diventare sacerdote. Non è nato santo San Vincenzo. Anzi, la santità lo ha raggiunto in età, si può dire, si è messo sul cammino di santità in un'età matura, verso i 40 anni. A 19 anni e 5 mesi è stato ordinato sacerdote. È nato a Pui, non l'ho detto in precedenza, è nato a Pui nel 1581, ordinato sacerdote a 19 anni e 5 mesi, ma soprattutto più che per vocazione ecclesiastica, perché voleva raggiungere una sicurezza per lui e per la sua famiglia. Poi gli eventi di Dio non sono mai gli eventi nostri e la grazia l'ha raggiunto quando lui si è incontrato con i poveri. Intanto i primi poveri che ha incontrato sono stati quelli della famiglia De Gondi e poi in seguito i poveri che ha incontrato nella città di Parigi, tanti, tanti poveri. Ed è qui che si è lasciato interpellare e si è interrogato e si è messo a servizio di queste persone. Come lui le definiva, ignoranti, luridi, sporche, a volte anche non oneste, però persone, persone che avevano bisogno di aiuto. E si è dato tutto ai poveri, ma ha fatto in modo che non poteva da fare da solo e si è rivolto alla nobiltà del tempo, le cosiddette dame della carità. Ecco, la prima fondazione, se così vogliamo dire, è stato proprio questo incontro con questa famiglia di Châtillon-les-Dombe, dove è stato chiamato San Vincenzo per visitare questa famiglia dove tutti erano ammalati, non avevano da mangiare, non avevano niente. Lui è andato come parroco a visitare la famiglia e si è trovato di fronte a una situazione di miseria terribile. Ed è riuscito a coinvolgere le dame della parrocchia, le dame di allora, le nobile donne del tempo. Coinvolgendo le dame, poi questa sua opera si è stesa sempre più. ha convinto le dame non solo a sovvenzionare, ma anche ad andare nelle case dei poveri. Lo hanno fatto per un po' di tempo, però poi non erano persone abituate a certe cose e allora di conseguenza iniziarono a mandare le loro serve. Questo, ecco, creava poi difficoltà, perché la serva non aveva in animo di andare a servire altre persone. La serva lo faceva per il suo padrone e niente altro. E allora, un giorno, mentre San Vincenzo pensava a questo, si presentò spontaneamente una giovane contadina, analfabeta, Margherita Nasò, si presentò e disse «Ho sentito dire che voi assistete ai poveri, io voglio assistere ai poveri». E allora ecco l'intuizione, quello che le dame non vogliono fare, le donne umili, le giovani, potranno loro fare questo. E così con Margherita Nasò iniziò la compagnia delle figlie della carità. Margherita Nasò è stata la prima che ha dato l'esempio, però San Vincenzo, dalla disponibilità di Margherita Nasò, poi ha messo su la compagnia delle figlie della carità. Non è stato facile all'inizio, perché per le donne dell'epoca c'erano due possibilità. O la clausura, o il prendere marito, o, come devo dire, raramente si restavano nubili. E queste erano le due strade. Le due strade. O per costrizione, a volte anche la clausura, per costrizione a volte anche il matrimonio. In precedenza c'era stato anche San Francesco di Salle, che aveva tentato di mettere su una congregazione per il servizio dei poveri. Ma le difficoltà dell'epoca e la mentalità dell'epoca hanno rinchiuso queste suore immediatamente in clausura. Le visite andine di San Francesco di Salle. Allora San Vincenzo, forte dell'esperienza che aveva fatto San Francesco di Salle, ha deciso di inviare queste giovani, ma di non farle suore. Praticamente raccomandava di non dichiarare assolutamente di essere suore. Ma erano delle buone figlie che andavano e venivano per il servizio dei poveri. Poi in seguito... È stata una buona intuizione. Una buona intuizione. Poi a chi vi chiede se siete suore, dice voi non siete suore, siete delle buone figlie che vanno e vengono per il servizio dei poveri. E così è iniziata la compagnia delle figlie della carità. In seguito poi Santa Luisa de Mariac, che era una nobile donna, prese a cuore anche questa situazione e San Vincenzo affidò la formazione delle figlie della carità a Santa Luisa de Mariac. Quando si arrivò al momento della consacrazione, perché si doveva, ecco... Santa Luisa de Mariac pretese, o meglio pretese, ha insistito in modo tale presso San Vincenzo che il direttore delle figlie della carità fosse sempre un missionario vincenziano, San Vincenzo o i suoi successori, e non il vescovo del luogo. Perché se andavamo nelle mani del vescovo rischiavamo di essere trasformati anche come mentalità, come carisma, come... E allora dopo l'insistenza di Santa Luisa ecco si è riusciti ad avere l'autorizzazione a fare i voti annuali. Noi ogni anno, il 25 marzo, rinnoviamo i nostri voti, ma non per rinnovare. A noi i voti scadono. Il 24 marzo, mezzanotte, noi siamo libere per riprendere l'impegno con più gioia, con più forza, con più serenità, sempre con l'aiuto di Dio. Per questo non c'è una professione perpetua. Non abbiamo la professione perpetua, ma sono voti annuali che la Santa Sede ha riconosciuto così come i fondatori l'hanno voluto. Siamo una società di vita apostolica, siamo dedite in modo particolare al servizio dei poveri, qualsiasi forma di povertà non ci è esente. Qualunque sia il problema che l'uomo vive è problema nostro, anche delle file della carità. E siamo chiamate a servire i poveri. Ma in questo servizio quello che ci muove è che noi vediamo nel povero Cristo stesso. e ci spinge in modo particolare la carità di Cristo crocifisso, caritas Christi urget nos, ed è anche il nostro stem. Col passare degli anni, è logico anche i tempi, ecco, non siamo più quelle del 1600, però il carisma è sempre lo stesso. E il carisma vincenziano è più che attuale perché lo vediamo nelle diverse situazioni e circostanze di vita. la presenza della figlia della carità è una presenza che cerca di rispondere con semplicità, umiltà e carità alle esigenze di chi realmente chiede aiuto o ha bisogno. Ma non c'è neanche bisogno che chiedano aiuto. Alle volte è la nostra stessa presenza che ci fa intuire situazioni di povertà di povertà e di bisogno. Ci sono degli ambiti privilegiati anche se come ci ha detto qualsiasi povero in qualsiasi forma di povertà viene accolto e aiutato. Sì. Noi siamo presenti, siamo stati presenti per molto tempo negli ospedali, nelle scuole e siamo ancora presenti nelle scuole. Scuole di diverso fino alla maturità, alle magistrali, al liceo abbiamo avuto questa presenza. Poi anche il servizio dei poveri a domicilio, il servizio mensa, il servizio ambulatoriale come avete visto, il servizio presso docce, il servizio anche di ascolto e poi in modo particolare ecco questo incontro delle persone disagiate nel proprio ambiente, nelle famiglie. Un'altra caratteristica del carisma vincenziano è questo, cioè aiutare il povero. Ma il povero deve essere aiutato anche ad aiutarsi, cioè a prendere la sua vita e trovare uno sbocco. Perciò la nostra presenza non è solo come a volte sentiamo che ci definiscono le suore che danno i pacchi, ecco, i famosi pacchi. Non è quello, perché il pacco è la cosa temporanea del momento, il bisogno materiale immediato. Però noi miriamo all'immediato materiale, miriamo soprattutto anche alla vita spirituale, all'accompagnamento spirituale delle persone che incontriamo, a far conoscere anche il Cristo attraverso il nostro operare e soprattutto anche a risollevare il povero dalla sua situazione, mettendo in mano anche mezzi, mettendo in mano anche indirizzi, cercando persone che possono dare una mano d'aiuto per risolvere, opportunità per risolvere determinate situazioni. qui siamo nella Bari Vecchia e per la gente del sud sicuramente è una zona a rischio, una zona che ha bisogno. Come operate? Voi siete in quattro in questa comunità? Siamo in quattro. Sor Paola che lavora in modo particolare presso l'ambulatorio parrocchiale. Nell'ambulatorio parrocchiale si riversano tante persone, ma anche extracomunitari perché provengono da tutte le parti del mondo possiamo dire, soprattutto quelli che sbarcono con i barconi e si assistono queste persone. All'ambulatorio ci sono dei medici volontari, ci sono anche dei volontari che aiutano all'accoglienza e c'è poi il servizio della suora che come infermiera cerca di collaborare con il medio. ma non è solo un servizio che si ferma a dare la prestazione in quel momento e basta. Però ecco cerca di raggiungere anche ambiti ospedalieri con collegamenti, con telefonate, con raggiungere anche specialisti che possano anche prestare la loro opera e si inviano queste persone che hanno bisogno anche in centri specializzati proprio per aiutarli. abbiamo una buona collaborazione con i medici, ci sono anche dei medici che sono molto impegnati a raggiungere diverse strutture sanitarie per facilitare anche il sostegno e l'aiuto a queste persone. siamo presenti anche alle docce sempre per extracomunitati ma non solo da un po' di anni da un po' di tempo vediamo moltissimi italiani che si presentano alle docce moltissimo anche moltissime anche di di Bari che si presentano e anche lì ecco c'è questo servizio è in stretta collaborazione con l'ambulatorio perché nel momento in cui si presentano alle docce e ci sono problemi sanitari le due suore ecco si intendono e si passano ecco queste persone le informazioni e cercano di dare risposte nel modo migliore abbiamo anche il centro ascolto presso la parrocchia e al centro ascolto ecco ci sono tante famiglie che si presentano si è arrivati anche a 50 60 70 famiglie 70 famiglie che si seguono si seguono con l'ascolto si seguono con l'intervento immediato anche di materiale di viveri si seguono anche a casa si seguono anche con questa collaborazione anche con l'ambulatorio medica o altro la cosa bella è sicuramente quella della vostra collaborazione con i laici questo è un aspetto bello e interessante anche per il mondo di oggi non si può fare tutto da soli perché si rischia di disperdersi in tante cose ma nella nostra vita di consagrazione abbiamo un un fulcro che è il Signore al quale abbiamo dato la nostra vita e questo Signore lo onoriamo e lo osserviamo in modo particolare in questi poveri che si che si presentano però non tutto possiamo fare da soli e allora questa collaborazione con i laici i laici della parrocchia che sono presenti nei diversi servizi ma anche la collaborazione con il volontariato vincenziano al quale cerchiamo di dare anche una formazione prettamente vincenziana per poter servire secondo lo stile e il carisma vincenziano e c'è una buona collaborazione su Bari abbiamo la presenza di 80 volontarie distribuite in nove gruppi presenti in nove parrocchie perciò ecco è un po' diramata e distribuita la cosa c'è una buona collaborazione la collaborazione arriva anche non solo al servizio dei poveri a domicilio al centro ascolto ma anche la presenza delle volontarie presso il doposcuola che si tiene qui nella nostra casa ma anche presso la parrocchia del Santissimo Rosario detta di San Francesco che è vicino a Via Perrone cioè abbiamo due punti dove abbiamo il doposcuola il doposcuola ed è una buona collaborazione senza loro avremmo fatto faremmo molto ma molto di meno e saremmo super affollati di tante cose invece noi abbiamo bisogno anche degli spazi da vivere in intima comunione con lui e siamo in compagnia di un'altra figlia della carità Sor Paola grazie per questa sua disponibilità da quanti anni è figlia della carità? Allora figlia della carità faccio 50 anni il 24 febbraio si trova proprio nell'anno dei miei 50 anni di vocazione sì 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 perfetto ecco Sor Paola qual è il suo impegno qui? il mio impegno è di stare vicino ai poveri ecco il primo impegno è stare vicino a loro perché è il carisma vincenziano che mi porta a fare questo e lo faccio con tanta gioia e con tanto amore anche in tutti negli anni sì negli anni che sono stata sì sono stata Napoli sono stata anche a Salerno e sono stata a Carbonara di Bari 38 anni questo ti ha affascinato di più sì perché adesso io sto conoscendo il vero povero il vero povero che sì lo conoscevo nell'ambiente ospedaliero però qui lo sto conoscendo molto meglio ecco quando dici qui che cosa qual è il tuo ruolo qui e chi accogli? allora noi io con il medico accogliamo tutti quelli che vengono a bussare alla porta tutti italiani e non italiani c'è il medico che ha bisogno di un visite lui visita tranquillamente e se abbiamo dei farmaci doniamo anche i farmaci tutta una terapia che lui deve fare non so per una settimana dieci giorni cinque giorni noi tutto quello che ci viene portato in ambulatorio noi diamo ecco qual è il ricordo o la storia che più ti ha ti ha affascinato di questo di questa tua missione? le storie sono molte che è proprio in questo ambulatorio io sto qui in questo ambulatorio da cinque anni e mezzo da quando ho lasciato il divenere carbonare sono venuta qua il ricordo ne sono molti in questo momento ma sono anche mamme con bambini sì abbiamo abbiamo seguito alcune mamme in gravidanza del Bangladesh una del Haiti stavamo noi in stato interessante con delle patologie non troppo belle l'abbiamo noi qui seguite con terapia infusionale terapia orale e poi abbiamo visto anche la nascita non in questa struttura ma io sono andata a trovare di queste mamme quando hanno dato alla luce i bambini e ieri sono venuta a trovare questi due bambini la storia continua perché poi loro ritornano sì 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 loro ritornano come tali bambino piccolino adesso mi chiama zia Paola mi sta chiamando perché ha quasi due anni e allora io l'ho visto proprio nel grembo materno ecco la cosa bella è che voi non offrite soltanto un servizio ma sicuramente un ascolto un accoglienza sì 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 per me queste mamme sono tutto me le sento come sorella adesso di sangue perché loro mi vogliono anche bene perché di quello che abbiamo fatto l'ambulatorio ha fatto per loro non solamente io anche i medici perciò i medici e i volontari che collaborano con voi sì 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 come loro lo possono dire quello che noi la mattina viene in ambulatorio ci sono dei giorni che vengono meno extra comunitari come italiani ci sono dei giorni che ne vengono abbastanza più d'inverno perché c'è l'influenza c'è la bronchite ci sono tante patologie anche di una certa importanza in questo caso noi li mandiamo con il 118 policlinico perché lì devono essere curati per essere in isolamento essere curati noi questo volontariato lo facciamo col cuore veramente come diceva suor Paola che ci dedichiamo ai poveri quando possiamo fare qualcosa anche per loro lo facciamo tutto quello che ci sentiamo di fare lo facciamo siamo partecipi in varie cose sia con la menza sia con la cucina sempre dedicando ai poveri questo volontariato è da due anni che stiamo qui con il for Paola e quindi è una cosa bella dedichiamo due ore e così due ore e due ore e mezzo a questo volontariato e poi non pensiamo neanche di lasciare la casa nipote la famiglia lasciamo tutto e veniamo qua l'importante che stiamo con loro allora anche lei è una volontariata allora io sono Rosa faccio la volontariata conosco questo ambulatorio da 40 anni ne ho conosciuti di medici di suore e di altri infermieri che hanno sostenuto questo ambulatorio perciò come dice la collega lo facciamo col cuore assistiamo questi che vengono che vogliono aiuto e chiediamo quello che teniamo quello che possiamo dare per l'aiuto di questi poveri emigranti che vengono che fanno penne maggiormente a quelli e facciamo di tutto quello che sentiamo quello che abbiamo con il cuore veniamo la mattina dalle 9.30 alle 11 secondo l'orario e facciamo il nostro meglio con il cuore lasciamo la casa per un impegno che proprio ci porta a parte a parte